Buongiorno, sono Marco Gambaré, oggi Presidente, Enrico Vacca, Andrea Bellisai, Antonio Giavarone e il sottoscritto. Sindacalizzazione, creare attraverso contatti nuove procedure, nuove alterazioni. Questo perché in questi anni di crisi ovviamente il turnover è elevatissimo a causa ovviamente dei fallimenti, delle procedure che avanzano, quindi la fuoriuscita anche tramite accordi sindacali dei lavoratori ha portato il turnover a essere molto elevato. Questo praticamente ci deve spingere sulla sindacalizzazione delle nuove aziende perché è fondamentale quindi per scoprirlo perché senza riuscire a coprire il turnover questo ovviamente fa sì che una zona perde sostanzialmente quelle che è la possibilità anche di poter intervenire sul territorio. Sulla zona romana sapete che poi negli ultimi anni ci sono stati un po' di interventi anche a livello operativo quindi questo ha portato oggi ad avere anche un operatore in meno e la scelta è quella che è stata fatta da Giuseppe Massoli, domine del segretario in zona con un operatore. Sostituzione di quelle realtà ormai sature, cosa significa? Noi ovviamente la nostra produzione deve permettere anche di creare quel cambiamento necessario all'interno della realtà dove ormai siamo strutturati benissimo ma non c'è più margine di crescita sostanzialmente quindi ci sono quelle che sono di mantenimento e quelle nuove invece che devono permettere di dare nuova linfa anche all'operatore ovviamente perché se no si adagia da questo punto di vista. La crescita, nella crescita perché è questo? L'anno scorso noi sulla zona in funzione del testo unico sulla rappresentanza siamo andati a fare rinnovi elettorali in tutte le aziende per prepararsi ovviamente anche quello che era scritto nel testo in funzione della certificazione ovvio del peso che si ha anche a livello delegati per la contrattazione anche nazionale e quindi siamo andati a tappeto e abbiamo fatto parecchi rinnovi in tutte le zone. Questi rinnovi quindi hanno portato sicuramente ad avere il mantenimento della conferma di alcuni delegati ma anche da nuovi delegati praticamente che ci sono